Ben ritrovati dalla relazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Sulla variante di valico in A1 in direzione Roma, traffico a rilento tra il BV1 variante La Quercia e Badia. In A1 tra Firenze Nord e il BV1 variante di valico Baccheraia in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso. In A1 la stazione di servizio Bisenzio Ovest al chilometro 280 in direzione Roma presenta un guasto all'impianto di benzina. Inoltre servizio bagni non disponibile. In A12 in viaggio verso Genova, code a tratti tra Carrara e Sarzana. Sull'accordo siano a Firenze possibili disagi in entrambe le direzioni per scambi di carreggiata tra San Casciano e l'allaccio con l'A1 Firenze in Pluneta. Disagi anche tra Badesse e Monte Rigioni. Si ricorda che lunedì 18 settembre è in programma in tutta la Toscana uno sciopero del personale viaggiante di Autolinee Toscane. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!